Buongiorno a tutti e benvenuti sul nostro canale. Continuiamo oggi, nella lettura del mio racconto, Un viaggio all'Ocnes, dell'episodio numero 17 Una statua nel lago Passata circa una settimana dall'arrivo del circo, all'Ocnes arrivò Jim, un sub, affascinato sui misteri degli abissi. Incuriosito nel sapere cosa ci fosse sotto le torbi di acqua dell'Ocnes, si tuffò nel lago. Accompagnato dalla sua inseparabile torcia marina. Passato poco tempo, Jim avvistò un celocanto, un pesce preistorico, che si pensava fosse estinto, sin dal Cretaceo. Jim, orgoglioso di aver trovato un fossile vivente, lo inseguì senza indugio, fino a quando egli trovò una statua sommersa, di San Columba. Emozionato Jim, decise di farsi aiutare dagli archeologi, subarqui dell'Ocnes, nonché suoi amici, che in giro di poche ore trasportarono la statua a riva, dove i felici decisero di organizzare una festa, in onore di San Columba, per aver scacciato, molti secoli fa, il mostro scossese di Zenisaec, dalle oscure acque dell'Ocnes. Questo è il disegno. Bene, vi ringrazio dall'ascolto, lasciate un like se vi è piaciuto, grazie alla prossima, ciao da Davide, ciao! Ciao!